Gli astri vi stanno proiettando in un periodo fantastico. Sarete molto attivi, la mente è mobilissima e l'attenzione si concentra su molti diversi progetti. Toro è il momento della riscossa, sempre che sappiate agire in modo accorto. Fantasia, immaginazione e inventiva saranno le vostre armi migliori. Puntate proprio su queste qualità per dare una svolta al vostro lavoro, qualunque esso sia. Gemelli, l'inquietudine che sentite addosso dipende da un problema che non avete risolto. Non perdetevi comunque d'animo perché a tutto c'è rimedio. Un amico affezionato vi aiuterà a sbrogliare la massa con saggi consigli e con piglio sicuro. Leone, il vostro mercoledì è sotto il segno dell'amore, dei figli, degli svaghi. Saprete dare il meglio di voi al lavoro soprattutto se avete un'attività di tipo creativo. La vita di coppie invece procede lungo i binari della routine, della tranquillità sentimentale, ma potrebbe all'improvviso accendersi di passione. Vergine, alcuni scocciatori potrebbero farvi perdere del tempo prezioso. Mandateli via subito con una scusa qualsiasi. Bilancia, una bella giornata con tutti gli astri più importanti presenti in cielo sfacciatamente a vostro favore. Messaggi e telefonate da parte degli amici vi trascineranno nei loro fogli e divertenti programmi serali. Scorpione, vi sentite fortunati e in forma smagliante e vedrete realizzarsi con successo la maggior parte dei vostri progetti, grazie anche a un maggior dinamismo e alla spinta ad operare al meglio delle vostre possibilità. Sagittario, mercoledì da incorniciare. Mettete da parte la prudenza e buttatevi nella mischia, anche a costo di rischiare qualcosa. La fortuna, quella con la F maiuscola, è completamente dalla vostra parte e sarebbe un vero peccato non darsi da fare. Capricorno, potrà essere impegnativo questo giorno e non concedervi tregua tanto che qualcuno potrebbe sentirsi abbastanza affaticato. Acquario, una buona giornata per tutti più o meno. Riuscirete a sbrogliare matasse burocratiche anche intricate, con pazienza e perizia non comune, risolvendo in modo veloce e pulito diverse situazioni. Pesci, anche se non siete i tipi che si intimoriscono di fronte alla fatica, non riuscirete a muovervi con scioltezza. Il vostro percorso non viene messo in discussione, ma i tempi di percorrenza oggi potrebbero allungarsi.